Ciao a tutti e bentornati a Pidoli di Storia. Con oggi chiudiamo questo piccolo trittico dedicato alla ligera, alla mafia, alla malavita milanese e lo facciamo raccontando gli anni 70 e all'inizio degli anni 80, anni che sono dominati anche dal punto di vista culturale, malavitoso ovviamente, da un uomo chiamato Renato Vallanzasca. E' un uomo di cui sicuramente tutti avete sentito parlare, anche perché trascende un pochettino semplicemente la figura del malavitoso, del rapinatore, del rapitore come tra poco vedremo per diventare veramente un personaggio sotto un certo punto di vista immagine e costume della Milano di quegli anni. Una Milano molto diversa da quella che conosciamo adesso, certo è già una città in crescita, una città ruggente, sta per diventare, lo farà negli anni 80 la cosiddetta Milano da bere, ma è anche una Milano molto violenta dove ogni anno si contano 150 omicidi, un numero semplicemente altissimo. Una Milano in cui gli imprenditori o semplicemente le persone ricche hanno paura di girare perché temono di essere rapiti, cosa che succedeva abbastanza spesso. Insomma, una città molto diversa da quella che conosciamo adesso. Prima di lasciare lo spazio alla sigla, due cose. La prima, come al solito, ringrazio Ilaria che ha ovviamente fornito anche la documentazione per questa terza e ultima pillola. La seconda e questa serie avrà una piccola postilla in una pillola futura, visto che l'avete chiesta in tanti, dedicata alla banda Cavallero, che non è strettamente una banda di Milano perché in realtà è una banda di Torino che però ha operato anche a Milano. L'avete chiesta in tanti, ne parleremo in futuro, lo faremo molto volentieri. Quindi, prima di parlare di questi anni 70-80, che sono sì, gli anni di Vallanzasca, ma non solo, perché parleremo anche di Francis Turatello e di Angelo Epaminondo e di molti altri. Come sempre, sigla. Se c'è una teoria che odio e che ritengo profondamente antiscientifica è quella che vuole che il destino di una persona sia già deciso alla nascita. Eppure, se andiamo a vedere la storia di Renato Vallanzasca, un po' il sospetto ci viene. Se ci pensate che quando aveva solamente otto anni, per la prima volta ebbe a che fare con la legge. Aveva, era molto piccolo, aveva messo insieme una piccola banda di suoi coetani e con quelli si era recati al circo, ad un circo che era arrivato a Milano, la città dove era nato e cresciuto, e aveva, dopo essersi introdotto sotto un tendone, aveva liberato una tigre. Una cosa che oggi forse lo renderebbe un eroe, ma che all'epoca l'aveva spedito, nonostante avesse solamente otto anni, per direttissima in riformatorio. Vallanzasca portava il cognome della madre, perché il padre, che aveva già una famiglia, non l'aveva riconosciuto, ma una volta finito in riformatorio fu affidato proprio alla matrigna, cioè alla moglie del padre, che aveva peraltro altri tre figli. Nonostante questo cambiamento e spostamento, perché si spostò letteralmente da una parte all'altra di Milano, le sue abitudini non cambiarono e ben presto, anche in questa nuova zona, riuscì a mettere insieme una piccola banda di coetani. Quando faceva le superiori, da perito tecnico, con questa banda iniziò a fare i primi colpi, colpi che lo portarono a fare piccole rapine, piccoli furti, talvolta anche su commissione, insomma piccoli colpi che gli permettevano di nutrire il suo ego, che man mano stava crescendo, ma soprattutto il suo continuo bisogno di denaro. Perché se c'è una cosa che per tutta la storia di Vallanzasca è ben chiaro, che tutto il denaro che entrava tramite le rapine, i rapimenti e quant'altro, ben presto veniva speso in uno stile di vita grandioso che lo rendevano quasi più un personaggio dei rotocalchi piuttosto che della cronaca nera. Nel 1972 questa bella vita di rapine, che faceva insieme alla sua banda, la banda della Comasina, così come veniva chiamato, però venne fermata. Venne fermata grazie alla squadra mobile di Achille Serra che riuscì ad arrestarlo anche grazie ad una soffiata e a portarlo in galera. Nei quattro anni successivi chiunque dovesse occuparsi della prigionia di Renato Vallanzasca probabilmente l'avrà odiato. Perché Vallanzasca, che voleva in tutti i modi riuscire a fuggire, tornare in libertà, riprendere la sua vita, le tenterà letteralmente tutte, scatenando risse, accoltellamenti, rivolte carcerarie, attacchi ai secondini, giungendo addirittura a autoinfliggersi dei danni per cercare di fuggire. Tutte cose che lo obbligheranno le autorità carcerarie a spostarlo letteralmente da città a città in giro per l'Italia. Pensate, in quattro anni tra 1972 e 1976 cambierà ben 30 carceri, passando da Milano a Nuoro, alla Sicilia, insomma a tutta l'Italia. Alla fine un modo per fuggire però lo trova. Gli spiegano che se avesse avuto una malattia abbastanza grave l'avrebbero dovuto prendere dall'ospedale, dalla casa circondariale, dal carcere e spostarlo in ospedale. E per questo lui decide di farsi venire un'epatite. Come fa? Beh, mangia delle uova marce, inala del propano. Secondo quello che racconta lui stesso giunge ad iniettarsi delle urine, cosa su cui qualche dubbio ce l'ho ma per carità può anche averlo fatto. Tutte cose che in effetti gli procurano un'epatite, lo fanno spostare in ospedale e qui, grazie a una guardia compiacente, riesce a fuggire. Tra il 1976 e il 1977, tornato a Milano, rimette in piedi la banda. Questa volta però non fanno più solamente delle rapine, ma iniziano a specializzarsi anche sui sequestri. I sequestri, come vi ho detto all'inizio, purtroppo a Milano erano abbastanza abitudinari. Anche sui sequestri però, Vallanzasca agisce in maniera leggermente diversa, a differenza di molti altri sequestratori che picchiavano le vittime, le chiudevano in posti bui, addirittura giungevano a ferirle, a mutilarle per spingere i loro parenti a pagare, Vallanzasca invece si accorda con loro affinché non cerchino di fuggire in cambio di un trattamento letteralmente principesco. Dei quattro che vengono da lui presi, tutti e quattro concordano sul fatto di essere stati trattati letteralmente benissimo. Se volete una testimonianza di questo, su youtube si trova l'intervista fatta a Emanuela Trapani, che era la figlia di un ricco imprenditore milanese che venne proprio presa, rapita da Vallanzasca tra novembre e il gennaio del 1976 e il gennaio del 1977. Lei stessa racconta di essere stata trattata benissimo, addirittura di essere stata presa e portata in giro per vetrine nel periodo natalizio. Secondo alcuni si sarebbe anche innamorata dello stesso Vallanzasca che univa a questo suo indole da malavitoso da altri tempi anche un gran bell'aspetto, tanto che veniva chiamato il bel René, soprannome che odiava ma che ben presto lo fece diventare veramente un personaggio da rotocalco. A questo punto Vallanzasca è diventato letteralmente un simbolo. Qualcuno lo definisce un rapitore gentiluomo, qualcuno lo definisce un ladro gentiluomo, d'altronde l'aspetto come dico aiuta a renderlo un personaggio, ma non dobbiamo dimenticarci che Vallanzasca è tutto fuorché un gentiluomo. Non solo in carcere infatti ha coltellato, scatenato risse, picchiato, ma anche fuori dal carcere si comporta in maniera completamente diversa rispetto ad alcuni dei vecchi boss della ligera milanese a cui invece fingeva di ispirarsi. Nonostante lui dicesse di avere un suo stile, un suo codice d'onore, molto spesso Vallanzasca tirava fuori le armi. Come ho detto all'inizio Milano all'epoca era pericolosa, ma Vallanzasca durante questo suo periodo di malavita si macchia di ben sei omicidi. Quattro poliziotti, membri delle forze dell'ordine, un medico e un povero passante capitato nel punto e nel momento sbagliato. Due di questi omicidi li compie purtroppo il 6 febbraio 1977. Vallanzasca insieme ai suoi due uomini viene fermato ad un posto di blocco della polizia. Gli uomini vedono venire incontro il poliziotto, che ha con sé ovviamente il mitra, che sta venendo a controllare quella macchina, probabilmente un semplice controllo di routine, ma quando Vallanzasca vede arrivare il poliziotto temendo di essere riconosciuto, esce dalla macchina e gli spara dritto addosso, purtroppo uccidendolo. Nello scontro a fuoco che ne viene fuori un altro poliziotto cade in servizio e uno degli uomini di Vallanzasca viene ucciso e lo stesso, Renato, è costretto a fuggire ferito. La sua fuga lo porterà fino a Roma, ma dove era poco, perché 15 febbraio 1977 viene finalmente arrestato di nuovo e rimandato in carcere. Nonostante da questo momento in poi la sua vita sarà principalmente in carcere, la storia di Vallanzasca però non finisce. Nel 1979 infatti si sposerà proprio in carcere e esattamente come durante il primo periodo le tenterà letteralmente tutte per riuscire a fuggire. Pensate che nel 1987 mentre veniva trasferito a bordo di una nave verso il carcere di Muoro in Sardegna, giungerà a fuggire da un oblò della nave, calarsi sul ponte e di qui cercare la fuga, avendo poi solo fermato pochi giorni dopo, mentre si trova già a grado, ben lontano, che cerca di fuggire. Sono anni in cui si macchia di altri delitti, tentativi di fuga, alcuni fatti armi in pugno, ma anche un omicidio, quello di un suo ex compagno della banda della Comasina che si chiamava Loi e che era diventato un pentito, aveva aiutato a meglio comprendere le dinamiche della banda, ciò che era avvenuto a Milano in quegli anni e che venne assassinato dallo stesso Vallanzasca in un modo molto efferato, ferito più volte con un pugnale e poi finito letteralmente squartandolo. Vallanzasca finirà in questo periodo in molti processi, in molte interviste, finirà nel processo contro la nuova Camorra, di cui verrà considerato un contatto a Milano, un uomo che la Camorra avrebbe contattato proprio per cercare di estendere il suo potere su Milano. Finirà in processi più piccoli per altre rapine, altri rapimenti e anche una volta che l'onda lunga di quello che aveva compiuto sarà passato, continuerà a far parlare di sé. Rilascerà interviste scandalo, come quella in cui dirà di sapere tutta la verità sulla morte di Marco Pantani, darà scandalo quando gli sarà permesso di uscire dal carcere per andare a lavorare, cosa che molti parenti delle vittime non apprezzeranno, periodo che peraltro sfrutterà per tornare a delinquere perché verrà accusato di uno spaccio pensato di mozzarella e sarà accusato e condannato per aver taccheggiato un supermercato, un essere lungo, lui che faceva grandi rapine e grandi rapimenti verrà arrestato per un piccolo furto in un supermercato. Sarà in questi anni che scriverà molti libri e giungerà anche a chiedere la grazia, grazia che però Ciampi, come Presidente della Repubblica e Mastella, come Guardia Sigilli, gli rifiuteranno. Un po' per rispetto ai morti, un po' perché in realtà in tutti questi anni il bel René non si è mai pentito di quello che ha fatto e oggi è ancora in carcere. Gli anni 70 e 80 però come detto all'inizio non sono solamente gli anni di Vallanzasca, c'è un'altra figura infatti a Milano che spadroneggia e si chiama Francis Turatello. Turatello che per molti anni sarà anche considerato un rivale di Vallanzasca anche se i due non giungono mai a un vero e proprio scontro e addirittura nel 1979 nell'occasione del matrimonio di Vallanzasca si riconcigliano con Turatello che gli fa la testimone, beh Turatello diciamo che è un malavitoso diverso e uno di quelli che cercava più che altro di estendere il proprio controllo sulle principali attività economiche malavitose a Milano. Due erano i suoi campi principali, il primo era la prostituzione, il secondo erano le bische. Ora all'epoca in Italia se qualcuno voleva giocare d'azzardo aveva parecchie difficoltà perché ovviamente non c'era internet quindi non si poteva giocare a poker online e solo pochissimi casino in alcune località specifiche in alcuni casino località specifiche era possibile giocare d'azzardo. Ora ovviamente il classico imprenditore milanese non poteva pensare di andare tutte le sere a Campioni d'Italia piuttosto che a Sanremo per poter giocare d'azzardo e così in quasi tutte le grandi e ricche città erano sorte delle bische clandestine. Ovviamente chi controllava quelle bische controllava il passaggio di denaro e molto spesso quelle bische diventavano anche un luogo in cui spacciare droga, in particolare la cocaina e in cui trovare nuovi contatti. Molto rapidamente negli anni 70 Turatello mette le mani sulla quasi totalità delle bische di Milano e lo fa molte volte in maniera molto decisa minacciando i ex proprietari. Pensate che una volta entrò in una bisca con una granata in mano l'appoggiò sul tavolo e disse banco come dire ora questo posto è tutto mio. Turatello ovviamente non poteva controllare tutto questo traffico da solo e per questo iniziò a circondarsi di un gruppo di uomini a lui fedeli ma che rapidamente iniziarono anche loro a scalare posizioni di cui probabilmente il più importante si chiamava Angelo Epaminonda ed era di origine di Catania. Molto presto Epaminonda divenne il braccio armato di Turatello, mise in piedi un gruppo di fuoco che si faceva chiamare la banda degli indiani e con quello compì efferati omicidi ai danni di oppositori di Turatello o semplicemente di altri malavitosi che controllavano zone di Milano. La latitanza di Turatello durata molto lungo però terminò nel 1977. Portato in carcere inizialmente proprio tramite questi suoi uomini all'esterno riuscì a continuare a controllare i suoi traffici tanto che appunto nel 1979 era ancora uno dei boss milanesi più importanti ma ben presto i uomini all'esterno si resero conto che potevano fare senza di lui e così la banda si ricostituì proprio intorno ad Epaminonda che ancora per molti anni spadroneggiò a Milano spostandosi poi addirittura a controllare alcune delle bische sulla riviera romagnola. Il destino dei due uomini sarà molto diverso. Nel 1981 infatti Turatello verrà ucciso in carcere. Non si sa espressamente per ordine di chi. Qualcuno dice di Vallanzasca, qualcuno dice di Epaminonda, qualcun altro dice che avesse fatto degli sgarbi addirittura alla mafia che aveva proposto a Turatello di entrare in società con lui cosa che invece Turatello aveva rifiutato preferendo controllare direttamente le sue bische. Epaminonda invece molto rapidamente portò a una vera e propria escalation di violenza. Il suo gruppo di fuoco e gli indiani si resero colpevoli di due tre stragi a Milano che sempre più concentrarono l'occhio degli inquirenti su di lui e sulle sue azioni. Alla fine però arrestarlo per arrestarlo non fu necessario sparare neanche un colpo. Nel settembre del 1984 infatti la squadra mobile di Torino arrestò Salvatore Parisi che era uno dei più stretti collaboratori di Epaminonda il quale rivelò non solo dove Epaminonda si trovasse ma addirittura la parola d'ordine in dialetto siciliano in catanese con cui entrare nel covo. I poliziotti trovato qualcuno che parlasse bene in catanese riuscirono ad entrare come detto senza sparare un colpo anzi lo stesso Epaminonda si complimentò per quello che avevano fatto. Una volta catturato e finito in carcere però anche Epaminonda divenne un collaboratore di giustizia è rivelò a molte delle trame della Milano di quegli anni portando più di 180 persone in galera e letteralmente smantellando un sistema di cui lui stesso era stato a capo fino a poco prima. Epaminonda nonostante questo è stato condannato a 30 anni di carcere che però ha scontato grazie al fatto di essere proprio un collaboratore di giustizia quasi tutti fuori dal carcere arrivando a vivere per tutto il resto della sua vita in una località segreta ovviamente senza che venisse rivelato nel nome né dove fosse nel timore che qualcuno potesse andarlo ad uccidere e morendo a più di 70 anni qualche anno fa notizia che peraltro è stata poi rivelata solamente tre mesi più tardi sempre per dare tempo alla famiglia di nascondere l'accaduto. Insomma tre uomini che sotto un certo punto di vista controllarono Milano in tempi diversi tre uomini molto diversi perché da una parte abbiamo Turatello che diciamo era già su un'impostazione mafiosa di controllo delle attività economiche poi abbiamo Vallanzasca che invece è e sì forse più legato alla vecchia ligera quantomeno come metodi rapine rapimenti e poi abbiamo Epaminonda che invece è un uomo molto più violento molto più forte ma che segue un pochettino le orme di Turatello. Su tutti e tre questi uomini però come vi ho raccontato si è lentamente allungata una piovra o meglio due piovre che provengono invece dal sud che sono la Camorra che era più vicina a Vallanzasca e la mafia che inizia ad estendere i suoi tentacoli su Milano. Queste organizzazioni progressivamente soppianteranno la vecchia malavita e prenderanno il controllo della lato oscuro di Milano come molte delle anche più recenti indagini hanno mostrato. Finiva un pochettino un'epoca un'epoca che alcuni piace raccontare come un'epoca di ladri di malavitosi gentiluomini un'epoca che in realtà non è mai esistita perché come non era un gentiluomo il ben Renè non era un gentiluomo Turatello non era un gentiluomo Epaminonda non lo erano la banda dei Marsigliesi non lo erano neanche i primi esponenti della ligera che dopo tutto erano dei ladri e degli assassini. Però forse un pochettino noi uomini abbiamo questa tendenza a mitizzare questi uomini che vivono fuori dalla legge chissà forse un pochettino ammirandoli nel desiderio di essere come loro liberi dimenticandoci che quella libertà molte volte si paga a caro prezzo un prezzo che però non pagano tanto loro in galera quanto le famiglie di tutti quelli che hanno ucciso. Bene finita questa tirata moralistica che scusatemi mi è uscita un pochettino così io mi fermo qua ringrazio ancora Ilaria vi invito poi a vedere la prossima pillola che faremo di qua qualche settimana sulla banda Cavallero che chiuderà un pochettino questa storia della ligera ci sono tante altre storie in effetti da raccontare ma queste sono un pochettino quelle più importanti quelle che secondo me meglio mostrano l'evoluzione di questa malavita prettamente milanese e del nord Italia. Io mi fermo qua se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati e come al solito vi ricordo di essere curiosi perché la vita la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere e che dopo tutto così faccio uso questa correzione compongono la vita che ci circonda e che ha circondato noi i nostri antenati e quant'altro. Cerchiamo di recuperare qualche errore. Io mi fermo qua se volete curiosare tra le video le uscite fino adesso qui a fianco ce l'elenco tutto per voi. A presto ciao ciao